La categoria Bronze Allas, classifica di giornata, terzo classificato Luca Monateri Il secondo posto, intanto il premio per Luca Monateri, terzo classificato, classifica di giornata Secondo posto per Davide Soravia Anche per stasera, grazie Vince la giornata nella classe Bronze Allas, Luca Albi Bravo, bravo Bravo, bravo, soprattutto questa sera E allora, un bello applauso, un bello applauso